Libero lascia un paese che economicamente era quello che per noi è l'Iraq. A lungo non abbiamo saputo dove Libero fosse vissuto. Non riuscire a dargli un indirizzo non ci permetteva di immaginarlo lì, a New York. A volte, nelle nostre vite da immigrati, a riposare gli occhi su orizzonti che chiamiamo casa, siamo rifugiati al pensiero, non dei nostri più stretti familiari, ma in Libero. Un ventenne, con diversi dubbi, nato al sud, da solo in un nuovo continente. Che tipo era il nostro bisnonno? Al pensiero di vecchi migranti, riflettiamo solo sulle grandi differenze. A noi invece interessavano tutte le similitudini, tutto ciò che condivideva con noi, tutto quello che visceralmente ci facesse sentire meno soli, perché in qualche modo già nel nostro DNA. Dove è stato felice? Quanto veloce correva? Avrà avuto un amore durato un paio di sguardi? Il tramonto aveva lo stesso colore di allora? Quando era triste, come ne usciva fuori? Se la buttava dentro o la respingeva la tristezza? Alla fine abbiamo scoperto dove aveva vissuto. 240, Marbury's Street, lettera lettera. Ma tu ci pensi? Il nonno libero in questa America ha sbordato per andare in America. Quei tempi significa avere un coraggio non indifferente. Marco, Andrea, io non ci sono riuscito, solo, capito? Solo, solo. Uno si è abituato che è solo, solo si rimane anche quando si torna. Anche il paese poi, capite? Il paese pure cambia. Io quando l'ho visto l'ultima volta non mi sembrava lo stesso di quando ero partito. Voi mi direte perché. Ma sapete com'è il fatto che la gente, insomma, la gente va via, insomma. Io il paese come il mio che ci restano a fare. E che altro vi debbo dire? Questo è il nostro destino, questa è la nostra storia, insomma. Siamo straniere lì e siamo straniere pure quando torniamo qua in Pari.